Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video intervista! Ciao! Ciao! Ciao a tutti, ciao! Nome? Alessandro Francesco Nickname? Kendall, l'imperatore Bella faccia Età? 23 anni Ho 24 anni Dove vivi? Vivo a San Marino Caltanissetta, in Sicilia Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti su Instagram Ma diciamo che l'ho contattato io, gli ho detto ciao, sembri simpatico e poi è nata l'amicizia Tre aggettivi per definirti Beh, simpatico, leale e molto allegro Simpatico, sicuramente, poi fammi pensare generoso e altruista Tre aggettivi del tuo amico Beh, onesto, sicuramente un buon amico e leale, sì Beh, pollo, pollo non è un oggettivo Pollesco, un po' stupido, direi simpatico anche lui, sì 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 Che musica ascolti? Ascolto il rock'n'roll, yeah! Ascolto tutti i tipi di musica, che mi vanno ultimamente? Hobby preferiti? Ma diciamo, a me piace molto andare in palestra, quindi uno dei miei hobby preferiti al momento è andare in palestra E il secondo direi che è fare i video I miei hobby preferiti sono giocare a Minecraft e fare atletica Blocco di Minecraft preferito? Beh, ti posso dire quello che non è il mio preferito, sicuramente la cobblestone Comunque, vediamo, blocco preferito? La terra, la terra verde, sì Beh, il mio blocco preferito è il legno, lo sanno tutti Chi è più bravo a combattere? Prossima domanda Il più bravo a combattere? Beh, sicuramente Kendall Chi costruisce meglio? Prossima domanda, sì 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 Beh, qui devo dire Sicuramente bella faccia, sì sì Kendall deve migliorare ancora La tua paura più grande? I silverfish Decissamente I silverfish Sono odiosi La mia paura più grande? I creeper, sì Sicuramente quei creeper La prima cosa che hai pensato quando vi siete incontrati? Ma, allora, non è un pollo? Ho pensato Che tipo strambo? Tre aggettivi della propria vanilla Tre aggettivi della mia vanilla Molto bella Accogliente E molto colorata Sì Accogliente Bella Invitante, sì Come un piatto di spaghetti Da quanto sei su YouTube? Sono abbastanza nuovo Circa due anni, sì Dal 24 maggio 2014 Se non sbaglio Credo sia giusto Sei pro o contro? Aggiornamenti Molto, molto pro Pro, 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 pro Creeper Contro Assolutamente contro Quelle bestiacce Mandatele via Beh Sono assolutamente pro i creeper Sono delle bellissime creature Dei broccoli Lag Contro Non mi piace il lag Nonno No Assolutamente contro Toglietelo Eliminatelo Bannatelo Bannatelo da tutti i server Polly A favore Completamente Cosa scusa puoi ripetere? Mod A favore Sono molto carine Eh sì Contro Eh sì Pro e contro Dipende Delle volte Non lo so Cosa fai se sorprendi il tuo amico A rubarti i diamanti in casa tua? Cosa faccio? Cosa faccio? Faccio Vieni qui maledetto Se ti prendo Questo Provaci Provaci Il regalo più bello che ti ha fatto? Beh Il regalo più bello che mi ha fatto sicuramente sono state tutte quelle cose sotto l'albero di Natale Quello è stato molto bello sì Eh Non mi fa i regali lui Non me l'ha fatto neanche uno Il regalo più brutto che ti ha fatto? Il regalo più brutto? Sicuramente con la statua orrenda di me In versione femmina Beh Ho detto che non mi fa regali quindi no niente Da uno a dieci Chi è il più simpatico? Chi è il più simpatico? Mmm Ditelo voi Beh Io direi che Kendall Gli darei un bel dieci Non sono assolutamente di parte Bella faccia anche lui è simpatico Un bel dieci Dai sì Il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il verde Verde della natura Sì Il mio colore Non ho un colore preferito in realtà Il mio colore preferito è il verde, il blu o il viola Tutti e tre sono i miei colori preferiti Si dice un creeper al giorno Un creeper al giorno Distrugge una casa qui intorno No Toglie bella faccia di torno È nato prima l'uovo o la gallina? Beh lo sanno tutti che bella faccia è nato prima Beh Sì Se un giorno dovessi scegliere se salvare il tuo amico o un milione di diamanti Cosa sceglieresti? Beh un milione di diamanti sono tanti quindi Sceglierei sicuramente il mio amico Diamanti? Dove? Dove sono? Li vado a prendere subito Gli alieni esistono? Penso di no Sì No non lo so Spero di no Spero di no Sì Le ho visti l'altro ieri L'ho incrociati per strada No non è vero Non lo so E i nabbi? Beh i nabbi sì ne avete uno qua di fianco a me Beh Ne abbiamo una prova qua accanto Ciao bella faccia Il più mangione? Direi io Sì Mi prendo le mie colpe Beh il più mangione Tutte e due non scherziamo Il più dormiglione? Direi bella faccia Mamma mia Ma l'avete visto? Dorme sempre Eccomi eccomi Sì 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 Bene grazie per questa intervista Ci vediamo alla prossima Ciao 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 alla prossima Ciao ciao Eh no aspetta Mi avevi promesso 5 euro Scusa Ehi Ehi mi devi dare 5 euro Scusa 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 Scusa